Massimizzare la didattica Massimizzare la didattica vuol dire appuntare sull'incremento dell'attenzione dei lunni, sulla maggiore attrattività dell'argomento trattato e sulla riduzione del numero di comportamenti problematici che possiamo riscontrare all'interno della classe. Noi parleremo di strategie e metodologie che il docente può attuare all'interno del suo contesto di classe per massimizzare la didattica della sua lezione. Tutte le strategie e tutte le metodologie che vedremo sono tutte le metodologie che non sono pensate per essere utilizzate in un rapporto uno-uno con l'alunno ma per essere utilizzate all'interno della classe in modo tale che l'insegnante possa applicare una strategia che però vi effettua su tutto il contesto di classe e non sul singolo. In questo modo l'insegnante che le tre classi unito di strategie da poter utilizzare potrà aggiungere alla sua didattica alcuni componenti e andranno a migliorare in generale la sua lezione.